la lettura va a destra fa vedere no ce l'ho ci sta forse il cabro è un po' poco aspetta un cabro forse un po' poco ma ce lo metto un po' aspetta e la mettici in un po' nell'esponenziale se lo metti eeeh no l'esponenziale sta giugnato una tua modella capi no vabbè l'esponenziale ci sta 50% no vabbè il 50% penso che basta solo che la lettura è 50 70 e questo è 100 l'elevatoro è 100 ma veda è bello c'hai lo smaustro no il tuo lamento un po' venga c'è proprio prisa e ravi niente c'è già mandato eh oh mi so visto solo sui scuagli speriamo speriamo beh speriamo beh motore c'è però non è molto molto e chi l'ha misa e casomai amendo tu rene che se casmai qualcosa va in due mollo e la ropa vogliamo appiggiare che se non importa ma almeno non va e ne voglio che muollo va bene capire lì e non su vieni ma perchè te malamente no eh no che stessi cosa fatti un po' che allo ok aspetta ah c'è un po' il motore mannaggia ci toglievo già non funziona eh porti fatti vuote e pitti nella bocca però risalta il cuore eh è bellissimo e poi è pure bianca capi eh il vento lo sente eh eh l'ascello è dritta dritta capi massimo trim wow e picchia eh ah bo però ora va eh la metti che non c'è arrivato e lo va che piso gira un po' brutto comunque gira un po' brutto sento è il vento anche il vento è cabrato è cabrato è cabrato e poi gira un po' brutto perché è cabrato eh si però mi pare che se la pigliata non ha po' che picchia eh non ha hit eh eh sto picchiando eh beh perchè ha hit eh che t'ha già riccio però vedi non gira dei timoni no te non è no e beh hai visto che arriva che va a girare dei timoni si è buttato con un mossa in due parti o io metto un mossa in due parti si si era cabrato prima perciò non girava no ma sai io sono savigliano infatti io lo vedo ma va sempre meglio si 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 eh certo con poche vende si potrebbe essere aiuto eh buone si aiuto subito questo modello in balsa secondo me in ben dio sarà la fine romone eh si che lo vedo bello galleggione eh galleggia molto eh beh il motore questo posso pure fare quattro cento questo motore va pure a quattro cento ma va la fine eh che sei che sei la manetta non è che tira tanto ma va la fine si si ma ora la fine ma ora vediamo come scende di di elevatore ma la cosa bella è che consuma molto ampero andò a manetta penso che sia pure sensibile al vento questo non scende chiuso tenere la rete non scende più però vola bene vola bene molto rimato bene sente un po il vento se lo porta un po forse pure che c'è quel timone è bello grosso però è lo so si anche lo sente di rossi ma girata al culo a favore chi è come si girasse timone si c'è fatto è ovviamente solo giro proprio gira pure in da niente non è per tutti con tutto che non tenono di buono ma perché è curto paolo è molto buono si si voi come gira in pressa e poi mette un musso a bacio si si non fa che in partenza sei stato perché era caprato era bello sbilanciato in partenza infatti c'è stato picchiazza e puoi fare il rito è un po che vieni subito si gira una cosa buona che la batteria si può pulare non so che dire voglio prendere senza che si impendi va bene però è un rischio perché ti impendi quando a terra no ma poi c'è sta l'angoppi quando c'è sta a levare quando non c'è sta che la tagliano sono il prete è proprio un problema però quando c'è sta a levare lo vado molto quindi se stavano mettere poche fibrato a nanzi? si un po che naso fibrato però teno qualche cosa sotto che lo scalino che ci hanno fatto la non si può mettere se sta a mettere prima metterò? eh papà ma io lo faccio un po' comunque tutto in terra hai ricevuto eh teni il buco e cose eh lo so però può fare non è che ci hai messo tre minuti insomma eh lo so eh certo un po' al motore sta forse un po' stentato si secondo me a quattro celle fosse meglio che poi la nove pollici la regge con le quattro celle sono molto più eh lo so eh lo so ma io pensavo che andava bene perché provandolo a banco tiravo un macchino eh lo so certo perché ora tu stai tirando a presso il doppio eh lo so io provandolo a banco mi era dell'impressione che tiravo però comunque il modello è pesantino quando io ho fatto il modellino quello la mi ha detto se ti ho fatto il trucco il drone poi c'era regalata armata a quello va una latrina a me va troppo lento no ma questo è il 900 non è che troppo lento cioè non è l'800 700 ma vogliamo atterrare o vogliamo ruvere con il gioco? no eh questo ho il motore capi allora c'ho la 1.300 ma tanti sto facendo sempre lo stesso giro giusto per vedere un po come va ma va bene ma io secondo me posso pure atterrò la tanto mi vedo ma non c'è sta eh va la bascia 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 vediamo così ma c'ho tolto il motore vediamo che fa no l'ho fatto scendere proprio stallare perché ok no